Buonasera signori, chi è l'ultimo? Sono io Sì, volevo chiedere se posso passare davanti perché ho da ritirare degli esami Non puoi passare! Non vede la signora cinta? Sì ma devo ritirare degli esami, sono già cinque volte che vengo questa settimana È proprio perché devi solo ritirare, potresti pure aspettare Scusa, facciamo passare no? Dai, su, vado passare Dai, vai, 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 vai Grazie, grazie Ecco l'ultima figlia, l'ultima figlia Eccolo Eccolo Allora dottore, finalmente mi dica cos'ho Niente, non c'è niente abbiamo fatto l'astra, l'asteroscoscopia, abbiamo fatto le prove allergiche ho capito? E me sta solo a far perdere tempo tiè mettete sto cerotto Cerotto è il cazzo! Cerotto è il cazzo! L'unico cerotto per i pochondriaggi ti metti questo e vaffanculo, troppo! Cerotto è il cazzo! Funziona!